eccoci qua benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con l'aperitivo di viaggio qui sul go to webinar e qui con me al mio fianco vedete una squadra schierata tutti pronti di super fotografi proprio pronti a spiegarvi tutti i segreti della fotografia vediamo in base a come ognuno di voi ha il proprio desktop comunque la mia destra vedo amanda ciao a tutti buona sera poi subito dopo michele ciao a tutti e infine vedo edoardo ciao 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 a tutti allora si stanno collegando un po in tanti quindi diamo come sempre vedo che il contratore sta aumentando ci sono già diverse domande dice già che chi ci scrive che non ci vede quindi come sempre diamo qualche piccola info tecnica allora se siete da mobile quindi se siete dal cellulare molto probabilmente basta che fate uno scroll laterale e riuscite a vedere sia la foto che c'è adesso in sovrappressione e soprattutto poi i diversi velatori quindi siamo qua in quattro se siete da desktop invece molto probabilmente dovreste vedere sopra la foto e sotto noi oppure viceversa comunque sappiate che la zona dove ci sono le foto con le persone collegate potete modificare a vostro piacimento meno così avete anche la foto principale ben in evidenza soprattutto oggi direi che le foto non me ne volgano i miei colleghi qua però oggi le foto bisognerebbe che siano il più possibile grandi perché abbiamo foto veramente molto molto belle quindi mi raccomando seguiteci e soprattutto siate pronti a farci tante domande perché l'argomento è davvero super interessante le domande fatele sempre nel nello spazio dedicato quindi dovreste vedere già un box dove avete la possibilità di interagire con tutti noi poi io riporto le varie domande a diretti interessati ancora due info principali la prima sempre controllate sempre i nostri siti internet i nostri social network in maniera aggiornati su tutti i nostri appuntamenti abbiamo tutto il mese di giugno programmato con alcune chic davvero molto molto belle e quindi non fatevele scappare sempre 18 e 30 qua o sul canale instagram di cal 12 che è il 12 tuo operator così siete sempre aggiornati l'altra info che volevo darvi vedo ancora che ci scrivono che non non si vede quindi ci sono collegati alcuni nostri tecnici che sicuramente chi ha dei problemi si metteranno loro in contatto con voi per aiutarvi a risolverli l'altra info che volevo darvi è che se avete perso qualsiasi puntata del webinar potete scrivere la marketing chiocciola cal 12.com e di vi aiuteranno a recuperare le diverse le diverse puntate sia questa che quella precedente scrivete anche a info chiocciola cal 12.com per tutte le informazioni che avete bisogno sui viaggi vi metteranno in contatto con i relativi specialist che sono delle persone molto molto brave super preparate e che vi assisteranno davvero risponderanno a tutte le vostre domande sia per quanto riguarda i nostri viaggi nel mondo sia per questi workshop che adesso andiamo a presentare noi con tutto il team che vedete qua collegato da che iniziamo iniziamo io inizierei da michele che lo vedo già pronto occhiali da soli è già bello carico lo vedo anzi facciamo una cosa tanto che il contratore sta ancora salendo quindi ancora due minuti facciamo una piccola presentazione personale giusto una battuta a testa se siete d'accordo o meno così inquadriamo un po ci presentiamo tutti e dopo entriamo un po bene nell'argomento della giornata quindi michele scusa ma un gesto di cavalleria concedimelo inizierei da amanda ma che regge ciao buonasera a tutti sono amanda ronzoni con che il 12 sono oltre parte del team photography expeditions mi occupo anche in particolare di islanda e di giappone spero di avervi presto con me in viaggio con noi perché vuol dire a che ci liberano tutti e che il mondo è più sicuro di nuovo e possiamo tornare a fare quello che ci piace di più poi michele e io mi occupo di fotografia da 40 anni purtroppo per questioni anagrafiche ma ma nonostante qualcuno dica al contrario cerco sempre di essere aggiornato e in prima linea anche con le nuove con le innovazioni e con le tendenze e io giro un po spazio su tutto il mondo dal sud america al sud est asiatico passando attraverso l'africa e infatti abbiamo purtroppo a causa di questo blocco improvviso abbiamo dovuto sospendere i nostri programmi però per quest'anno i miei programmi erano uganda namibia vietnam per ue bolivia birmania per cui tutta una serie di destinazioni che sicuramente riusciremo a riprendere nel 2021 edoardo velocissimamente perché il tempo sta passando anch'io sono qualche decennio insomma che sono un fotografo professionista e ha iniziato appunto questa collaborazione con che il 12 national geographic expedition già dall'anno scorso e niente quest'anno come vedremo nel corso del di questo webinar ci concentreremo sul sull'italia ma ciò non vuol dire ea partire da 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 fine anno se ci sarà la possibilità cominceremo anche a ritornare ad esplorare il mondo non tralasciando comunque l'italia perché l'italia ci offrirà e poi vedremo alla fine tantissime tantissime situazioni sicuramente interessanti e quindi continueremo a fare in italia e ripartiremo poi a girare un po il mondo dall'africa io mi occupo specialmente del oriente e africa e un po meno un po meno la parte dell'america latina però insomma ecco finiamo qui e poi inseriamo nei dettagli tranquillamente dire quindi tutti i tre fotografi professionisti e anche i grandi viaggiatori quindi che uniscono queste due caratteristiche allora sono già arrivate un paio di domande spesso sono tecniche quindi poi andiamo anche nel dettaglio con gli amici a casa però io vorrei iniziare a fare un discorso un po più ampio parlando con faccio domanda a michele in questo caso perché siamo nel 2020 e questa è l'epoca dell'immagine tutti i fotografi probabilmente soprattutto dopo che lo smartphone hanno dato questa possibilità ma Michele chi è esattamente un fotografo? Allora sai c'è una differenza fondamentale fra un qualsiasi essere vivente e un fotografo gli esseri viventi in genere ma limitiamoci agli esseri umani hanno la capacità di percepire con gli occhi una serie infinita di immagine in tempi molto stretti queste immagini servono a qualsiasi persona per orientarsi per decidere dove andare per decidere di ricordarsi determinati punti di riferimento queste immagini questi milioni di immagini fisiologicamente vengono mantenute in una sorta di memoria ram per pochi minuti a parte qualche specifica per esempio l'angolo dove c'è il semaforo piuttosto che dove c'è il panettiere e vengono cancellate ok per cui questo è un è un'azione meccanica dell'occhio il fotografo anche se non sa di essere un fotografo è colui che ad ogni immagine fa corrispondere un concetto cioè ogni immagine la trasforma in qualcosa da fissare in una memoria stabile ok è in questo senso il l'occhio del fotografo viene colpito da cose particolarissime che che capisce solo il fotografo spesso come 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 tipo di immaginazione però diventano quell'immagine non è una un'immagine fisica stessa ma diventa un concetto qualcosa che vuole esprimere una qualsiasi eh emozione o suggestione o sensazione questa è la grande differenza fra le persone normali e i fotografi i fotografi osservano ogni momento della loro realtà con una con una logica di visione che fa sì che vadano sempre sistematicamente a cercare con 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 la loro attenzione dei dei particolari dei dettagli delle inquadrature che potrebbero essere delle fotografie eh fotografo non è chi scatta infinite fotografie in una macchina fotografica ma è chi con la testa osserva il mondo e abbina a quello che lui sta vedendo un'idea un concetto e pensa quella sarebbe una bella fotografia quando tu nella tua testa hai qualche milione di queste immagini ok cioè queste queste e faccio un piccolo dettaglio quando pensa questa sarebbe una bella fotografia un fotografo pensa anche a che diaframma userebbe a che tempo userebbe in relazione a cosa sta succedendo dentro quella scena a come andrebbe a cercare le linee di fuga dello sguardo per far sì che l'immagine che poi è un quadro un rettangolo conduca lo sguardo verso quel quel dettaglio quel particolare quel punto che a lui ha suscitato il il fulcro il focus di di quell'immagine che poi ci ha costruito intorno questo è un fotografo wow quindi direi che siamo spartiti subito veramente alla grande siamo entrati direttamente nel concetto e sono solo che contento grazie michele di questa bella presentazione però colgo subito la palla al balzo quindi anche per per farti una domanda forse un po scomoda ma niente di niente di preoccupante io so che ti ho sentito spesso parlare di etica della fotografia quindi in questo tuo discorso quanto è importante l'etica della fotografia e come come la inserisci quindi in questa tua definizione allora quello quello che il fotografo vede è un uno uno sketch un'immagine della realtà facciamo consentimi un piccolissimo un piccolissimo appunto a questo oggi purtroppo tutta una serie di tecnologie a fa credere a tante persone che si possano fare le fotografie con il computer con i software con i montaggi fotografici ok quello non è fotografia quello è un altro settore attenzione che è un settore che ha degli degli artisti eccelsi che riescono a fare delle opere visuali straordinarie che io stesso mi metterei a casa ma non sono delle fotografie sono delle costruzioni visuali a volte ma che sono paesaggi piuttosto che opere dell'ingegno piuttosto che 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 cose astratte ok la fotografia è qualcosa che nel suo insieme dovrebbe deve o dovrebbe rappresentare il più fedelmente possibile un frammento di realtà però spesso questo frammento di realtà impone che il fotografo prima di decidere di prendere quell'immagine debba farsi una domanda se raccontare quella storia è lecito oppure no e qui entriamo nello spinosissimo campo dell'etica dove io vorrei solo addentrarmi in punta di piedi in questo senso non esiste che comprare il biglietto di un aereo ti dia il permesso e la concessione di poter andare ovunque dove vuoi quando vuoi come vuoi spesso violando la privacy e la dignità di altre persone semplicemente perché da turista viaggiatore ok hai il diritto di portarti a casa dei souvenir di quello che tu vedi questa è l'etica del fotografo il fotografo e dopo lo lo spiegherò più approfonditamente è di norma un individuo che si muove nell'ombra la prima per me la prima dote del fotografo è l'invisibilità e poi ne parleremo in modo un po' più esteso però soprattutto è la la precedente conoscenza di che cosa vai a vedere del come vai a vederlo di quelli che sono usi costumi tradizioni usanze rispetto di quello che stai andando a vedere e li devi rispettare non puoi entrare in una tenda in una capanna in un villaggio capendo con il tuo mitragliatore che questa che non è molto diverso da un'arma di offesa ok e pensare che in diritto in base al tuo diritto di documentare tu puoi fare qualunque cosa io purtroppo per per lunga esperienza ho viaggiato anche con dei fotografi blasonati con dei bravissimi fotografi ma anche con dei fotografi che adattavano le scene a loro uso e consumo per renderle più drammatiche cioè usavano un 20 mm sotto il naso di una vecchia per drammatizzare quella scena andavano a sistemare i segni di una donna che allattava per rendere la scena più fotogenica ecco per me queste sono le aberrazioni della fotografia il fotografo non è il protagonista non è quello che che manipola la scena a suo piacimento dovrebbe essere quello che da un angolo in ombra osserva una scena decide che quello è un momento di realtà da raccontare ok e nell'ombra cerca di rubare l'anima di quel momento perché le fotografie si si distinguono fra fotografie che hanno un'anima cioè che 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 chiunque le osservi recupera quell'attimo quel frammento perché non dimentichiamoci una cosa fondamentale la fotografia è l'unico linguaggio universale dell'uomo insieme alla musica cioè sono gli unici due linguaggi di comunicazione cioè di trasmissione di emozione che non ha bisogno di nessuna traduzione una fotografia parla a a un uomo di qualsiasi lingua religione colore di pelle convinzioni politiche abbia poi ognuno da quelli da quella singola immagine estrae quello che fa parte del suo background faccio un esempio abbastanza tragico la scena di cioè la fotografia di uno sgozzamento di di un prigioniero dell'isis per per noi è un aberrazione per uno dell'isis è un'esaltazione della sua ideologia ma quella fotografia non ha bisogno che nessuno gliela traduca nel senso non ha bisogno che qualcuno gli spieghi che cosa che cosa vuol dire quella fotografia per cui la fotografia è un linguaggio universale in questo ha una forza strepitosa ma non bisogna abusarne allora michele ti dico già che hai scatenato i nostri amici a casa in tanti ci hanno scritto sono d'accordo con michele quindi è un argomento proprio che come si immaginava cattura tanto l'attenzione però torno da te per sviluppare tutto questo argomento però adesso volevo passare un attimino a edoardo perché con lui volevo capire quali sono comunque gli strumenti creativi che quindi che un fotografo ha a disposizione per per parlare di oppure per esprimere questo suo linguaggio guarda volevo fare innanzitutto una una piccola premessa sul tante volte ci siamo confrontati sul significato di della parola fotografare no fotografare spesso viene tradotta con con scrivere con la luce in realtà ha una doppia traduzione o scrivere con la luce oppure scrittura di luce può sembrare questo un una differenza banale in realtà concettualmente una differenza veramente molto importante e vado a spiegare il perché quando noi parliamo di scrivere con la luce in pratica è come se noi avessimo un foglio bianco sul quale andiamo appunto fisicamente a scrivere sopra cioè siamo noi che scriviamo qualcosa che prima non c'era come fa un pittore quando dipinge una tela no è lui e dipinge un qualcosa che non c'era quella e questa è il scrivere con la luce se invece ci avviciniamo all'altro concetto c'è scrittura di luce allora vuol dire che il mondo l'universo ha già scritto qualcosa quindi noi non facciamo altro che premere il pulsante di scatto e nel momento in cui premiamo il pulsante di scatto del nostro apparecchio fotografico non facciamo altro che isolare un qualcosa che già esiste e già è lì cioè la fotografia in fin dei conti è il mondo della già costruita è l'universo della già costruita io sono molto più legato a questo concetto di fotografia il primo concetto di fotografia scrivere con la luce fa avvicinare l'autore quasi all'essere artista no l'artista è colui che crea qualcosa che non c'era prima la seconda invece scrittura di luce fa avvicinare il fotografo più a all'interprete ecco io mi sento un interprete del mondo come lo è un direttore d'orchestra no cioè il direttore d'orchestra non è lui ha scritto la musica lui semplicemente da il suo la sua interpretazione a una musica che hanno scritto altri e lui controlla tutti gli elementi che compongono l'orchestra il fotografo deve controllare tutti gli elementi che si trova davanti e sono gli elementi della natura le persone le cose gli oggetti la luce in particolare quindi ecco ed è curioso infatti se noi andiamo ad analizzare come in inglese si dice fotografare non in italiano si dice io faccio una fotografia in inglese si dice ai che piccio io prendo una fotografia e questo è un concetto che mi piace molto perché noi in effetti prendiamo una parte di realtà e congeliamo un frammento di tempo cioè prendiamo un qualcosa che già c'è ovviamente cerchiamo di interpretarlo questo cioè la bra qual è la bravura del fotografo dovuta alla sua cultura alla sua sensibilità è quella appunto di interpretare quello che stai vedendo quindi con un taglio particolare con una ripresa dall'alto con eventualmente anche con un mosso per dargli più dinamismo all'immagine però è fondamentale questo aspetto cioè è legato al concetto stesso di fotografia fotografare è legato a quello che il fotografo sta vedendo cioè non puoi fotografare qualcosa che non hai davanti ecco che uno si può di agganciare poi al concetto anche che ha espresso michele no sul prendere immagini diverse e comporle insieme si va fuori dal concetto di fotografia fotografia cioè te puoi puoi dipingere un un albero senza averlo mai visto ma non lo puoi fotografare cioè il concetto di fotografia è legato estremamente al la presenza delle cose che ci sono davanti al fotografo questo non vuol dire che la fotografia sia un qualcosa che come dire che che riproduca una verità no un documento veritiero no c'è il bellissimo libro di michele smargiassi che dice la fotografia è un'attentica bugia no questo simolo incredibile in realtà è vero cioè la fotografia come ci dice invece scianna mostra qualcosa ma non dimostra niente cioè la fotografia non dimostra niente ci mostra però quello che ci mostra è quello che il fotografo aveva davanti in quel preciso momento e in quel preciso spazio se togliamo questa peculiarità la fotografia non si può più parlare di fotografia è un'altra cosa allora ti interrompo sono un attimo che torno poi perché ho subito una collegata a questo una domanda per te però volevo sentire anche amanda sul tema perché è molto chiave la tua di sto riferendo a edoardo e anche quella di michele come posizione però volevo sentire anche amanda così siamo tutte allineati no quindi è questa in questa doppia diciamo posizione che ha presentato edoardo quindi come come ti posizioni comunque qual è il tuo pensiero a riguardo ma io penso che in realtà siano tutte e due queste posizioni nel senso che la realtà dei fatti è che noi abbiamo qualcosa davanti a noi e davanti a questo qualcosa ci siamo noi quindi noi scegliamo un mezzo che è quello fotografico che reagire reagisce se noi mettessimo semplicemente lì se un computer mettesse lì un uno strumento fotografico e aprisse l'otturatore quello registra la luce come dice appunto come si diceva appunto con edoardo e questa luce viene riflessa e ci riporta delle immagini su una lastra su un sensore e così via no però ecco quella sarebbe semplicemente una cosa meccanica non sarebbe una registrazione di quello che c'è di là noi in realtà in una fotografia raccontiamo anche qualcosa di noi che è la nostra scelta di quella cornice lì di quel frammento lì no la scelta di quel preciso momento a una memoria quindi in una fotografia sono condensate la realtà è condensato un aspetto autobiografico e se uno è bravo riesce anche a mettere un aspetto di metafora in relazione a quest'incontro tra un interno ed un esterno quindi penso che in realtà siano delle delle sia una posizione molto fascinante si siano 22 modi di vedere di intendere la fotografia che in realtà non si escludono poi ci sono autori che sono più portati per una cosa e autori che magari sono più portati per un'altra ok allora poi dopo andiamo nel dettaglio di ognuno con alcune vostre foto però la domanda che mi riferivo prima a edoardo quindi possiamo dire che da una parte c'è una fotografia proprio documento dall'altra un po più opera artistica opera creativa giusto come tipo di fotografia edoardo quanto è ammesso diciamo la manipolazione della fotografia perché nel giorno d'oggi photoshop ormai quasi sul computer di tutti ma non solo photoshop in generale proprio manipolazione sto parlando perché una fotografia possa essere ancora considerata un documento della realtà sì allora sottolineavo nuovamente l'aspetto che il fotografo interpreta la realtà e ovviamente è in grado di interpretare la realtà nel momento in cui comunque mette anche se stesso mette anche il suo background della sua cultura la sua sensibilità quindi comunque in entrambi i casi sia che ci sia un artista o meno c'è comunque del proprio in quello in quello che va a fotografare per quanto riguarda la manipolazione beh non si parla più di fotografia cioè nel momento in cui noi si comincia a agire togliendo delle parti aggiungendo delle altre cose sovrapponendo delle fotografie diverse il risultato finale non può essere più una fotografia perché viene meno chiamiamolo la sioma per cui la fotografia racconta un qualcosa che in quel momento era davanti al fotografo se noi togliamo questo aspetto alla fotografia non possiamo più parlare di fotografia quindi finché noi sviluppiamo il file dove per sviluppo del file ci possiamo riallacciare a tutte le tecniche di sviluppo che si ottenevano anche o che si ottengono insomma anche per chi lavora in camera oscura quindi se lavoriamo su contrasti se lavoriamo sulla saturazione se lavoriamo sui chiaroscuri se trasformiamo una foto in bianco e nero a colori la fotografia nasce in bianco e nero e poi diventa a colori sono tutte operazioni che non tolgono niente alla fotografia sono intrinseca alla fotografia questo lo possiamo fare oggi con i software di sviluppo delle immagini da photoshop c'è da camera raw all'altro ma nel momento e questo è fotografia ma nel momento in cui noi andiamo a manipolare l'immagine cioè a togliere o prendere qualcosa e lì dobbiamo cambiare il termine cioè come giustamente diceva michele ci sono delle opere bellissime ma se io vedo degli orsi bianchi su una banchisa polare e quello e mi viene detta è quella una fotografia io non posso mettermi a farmi una domanda del tipo ma quegli orsi saranno stati messi lì in post produzione oppure no no io devo sapere nel momento in cui mi viene detto quella è una fotografia allora io so che l'autore è partito ha studiato il comportamento degli orsi sapeva questi orsi dove magari figliavano sapeva quando uscivano dall'etargo era andato lì e ha fatto la fotografia era lì gli orsi erano lì davanti a lui quindi qualsiasi manipolazione che aggiunga o tolga qualcosa è un altro è un altro un altro prodotto son cuberta uno dei più grandi autori che c'è adesso in spagna appunto manipola le foto lui chiama le sue opere richiama post fotografia ma se risaliamo anche agli anni venti con man rei e quindi si parla praticamente di la fotografia era era nata già 80 anni prima quindi la fotografia era già ben consolidata e ma lei quando lui prendeva questi fogli di carta foto sensibile e li faceva ci faceva dei disegni con la luce quei quelli lì non le chiamava fotografie le chiamava radiografie proprio perché erano delle cose diverse alla dalla dalla fotografia se io scrivo una poesia scrivo una poesia ea con un certo tipo di linguaggio se io scrivo un romanzo scrivo un romanzo e da un altro tipo di linguaggio cioè si chiamano in modo diverso quindi se io manipolo due immagini posso metterci due immagini tre immagini posso metterci e ti che mi cammina sulla luna non è fotografia è un'altra cosa pittografia cioè chiamiamola cioè chiamiamolo in altro modo proprio perché sennò la fotografia muore non ha più senso non ha più senso parlare di fotografia michele si torna quindi comunque il discorso dell'etica è molto importante fotografia deve avere un'etica quello che diceva edoardo cioè questo ho visto e questo racconto esso e faccio il fotografo se invece dico io io sono un artista visuale parto da uno o più file fotografici e creo una cosa che in natura non esista se sono straordinariamente bravo mi chiameranno artista visuale se non sono bravo mi chiameranno uno che manipola delle immagini ma non posso pretendere di dire che io faccio il fotografo il fotografo perdonatemi su questo io sono abbastanza drastico e talebano con tutto il rispetto che ho per tutti quelli che fanno opere visuali ma il fotografo è quello che vede qualcosa la costruisce nella mente la percepisce con gli occhi e sente l'anima con il cuore e questo l'ha detto bresson troppi anni fa ok e dopo di che l'ultimo atto di quel percorso di conoscenza è prendere quella cosa lì e in base alla sua cultura e la sua bravura trasferirla in un magazzino ok dove lui mette la sua idea diventata qualcosa di fisico cioè un immagine tutto io sono d'accordo con ma con edoardo spesso ci confrontiamo tutto quello che esce da questa cosa qui non è fotografia e chi fa cose diverse da questa operazione non è un fotografo può essere un grandissimo artista visuale come ce ne sono un'infinità ma non è un fotografo per per rispetto della professione dei fotografi che come diceva prendono fanno 15 giorni di barca vela per arrivare alle svalbard ok e si mettono lì attenzione perché poi il bravo fotografo è come un cacciatore conosce tutto della preda l'unica cosa che non può sapere è se quella preda farà quello che lui ha pensato nel senso perché può darsi che quella settimana gli orsi abbiano la luna di traverso e siano da un'altra parte torna a casa senza le fotografie non è che va su internet prende dei raw di orsi li mette sulla macchina e dice ho fatto la fotografia degli orsi polari così come ho fatto la fotografia della via latte ha c'è tutta una serie di raw della via latte ok prendo un bello sfondo che mi piace lo metto in photoshop tolgo tolgo il cielo metto la via latte ha ci metto un omino con una pila che mi fa che mi fa i giochini di luce e ho fatto la miglior fotografia della via latte no hai fatto una costruzione si chiama montaggio fotografico hai fatto un'opera che se sei bravo può anche essere bella ma non è una fotografia e tu non sei un fotografo punto allora vi dico soltanto che abbiamo scatenato veramente il putiferio perché tanti a casa si sanno proprio scrivendo attenzione fa faccio una piccola una piccola postilla e questo non vuol dire essere dei nostalgici dei romantici degli attaccati al passato io edoardo passiamo gran parte della nostra giornata a studiare le nuove tendenze della fotografia ma faccio un esempio se io sono un centometrista se io sono un atleta che fa i cento metri mi alleno per abbassare il mio tempo sui cento metri se sono un fotografo cerco di capire qualunque innovazione qualunque giove possa permettermi di migliorare la mia capacità di fare le fotografie ma se sono un centometrista non prendo una motocicletta e dico cazzo il mio il mio record lo batto con una motocicletta mi chiede dai tranquillo innanzitutto che che ancora lungo il webinar quindi non scaldati però allora voglio ci sono un paio di domande molto interessanti dopo adesso questo discorso generale e penso che sia abbastanza chiaro quantomeno la vostra visione ripeto le persone a casa ci sono alcuni che che non che hanno diversi visioni però sono legittime tutte assolutamente volevo però c'è una bella domanda che vi faccio tutti e tre quindi una verona una risposta veloce vi chiedo dopo andiamo nel dettaglio della vostra fotografia c'è mirella che ci chiede è una sottigliezza una sfumatura quindi state attenti voi siete fotografi o fate i fotografi io sono assolutamente e anche qui mi riallaccio al a bresson quando diceva fotografare vuol dire mettere sulla stessa linea di mira la mente gli occhi al cuore fotografare è un modo di vivere ed è questo insomma cioè la fotografia è veramente un modo di vivere è un linguaggio e per quanto mi riguarda è il linguaggio che mi permette poi per i miei come dire limiti dialettici limiti di socializzazione che piano piano col tempo comunque superato però la fotografia mi ha permesso veramente di entrare in contatto con gli altri perché fa parte di me quindi assolutamente cioè non faccio io sono un fotografo io sono un fotografo ma ti spiego anche perché perché io nella mia giornata in una qualsiasi giornata mi capita almeno 20 volte di dire questa sarebbe una bella fotografia quella fotografia lì che è un dettaglio che il fatto che io la metta o non la metta in una macchina ma entra nella mia testa diventa un sample nella mia testa quell'immagine lì che io memorizzo come fotografia ok mi servirà poi quando ne avrò bisogno per scattare un'altra fotografia analoga sapendo già cosa io voglio scattare dall'altra parte del mondo questo si chiama sample nelle nelle nostre macchine sono delle ammiraglie ci sono dentro da 30 a 36 mila sample cioè pochi lo sanno ma esiste un motore dentro la macchina fotografica che ha 30 mila immagini ok e quelle immagini sono i suoi sample quando lui la fotografia mica le vede le cose cioè come fa a dirti a su questa su questa fotografia metto questo tempo e questo diaframma la fa semplicemente perché ha dei sample dentro nella sua memoria che gli servono per questa cosa qui assomiglia a uno dei miei 30 mila esempi per cui questa è la taratura ok nel cervello di un fotografo i sample sono qualche milione per cui per cui anche quando la macchina fotografica mi dice guarda che sarebbe da fare così io gli dico sì per tu hai 30 mila sample io ne ho qualche milione in testa la facciamo come dico io che che ho maggiore maggiore capacità di vedere quella fotografia rispetto a te scatola di ferro ok però michele sta andando a scatti allora passo la parola amanda e dopo torniamo a michele con che è lungo il discorso quindi vai amanda ma io penso di avere più che altro una natura fotografica nel senso che mi accorgo che appunto come dice michele molto spesso quando vedo qualcosa me la immagino già in una cornice mi immagino mi immagino cosa potrebbe dire qualcuno a cui la mostro e mi viene abbastanza spontaneo dialogare anche con gli altri usando le immagini nel senso che molto spesso mi accorgo che anziché per esempio parlare con qualcuno di oggi sono felice oggi mi è capitato qualcosa di bello oggi mi viene più spontaneo mandare una foto o cercare di comunicare attraverso una foto quindi ecco io mi sento così bene bene assolutamente ben chiaro no adesso andiamo un po po più veloci perché sono ovviamente quali stiamo ancora da dire però corre con l'occasione della domanda di antonella vedo è una domanda che volevo fare io michele e lei antonella ci dice una domanda per tutti e tre qual è la vostra firma ovvero un fotografo a una sua firma attraverso la quale si può riconoscere e la mia domanda era quali sono michele inizia a michele quali sono le basi della sua fotografia allora io ho tre o tre basi fondamentali secondo me per risper finire anche la risposta di prima il fotografo un fotografo è quello che per esperienza per cultura riesce a vedere le cose prima che succedano il concetto del dell'attimo fuggente sempre di bressoniana memoria non è che io cammino per strada a un certo punto c'è una macchina fotografica al collo vedo un signore che sta saltando una pozzanghera e in in una frazione di secondo riesco a prendere la macchina fotografica vedere l'uomo che salta e bloccarlo nella mia macchina fotografica ok questo è quello che si fraintende come attimo fuggente la previsuale mi sentite la previsualizzazione che è la caratteristica primaria e fondamentale del fotografo è quello di vedere un palcoscenico quale che sia cioè e immaginare che in quel palcoscenico fra fra un po non si sa quando ma fra un po succederà qualcosa questa è questa si chiama previsualizzazione il fotografo è uno che non va non corre da un angolo all'altro del mondo rincorrendo delle prede ok nessun cacciatore inseguirebbe un cervo o un orso nel bosco il cacciatore ha imparato tutto quello che deve sapere sul cervo sull'orso sul sul su qualsiasi altro animale e lo aspetta nel punto esatto in cui lui presuppone che passerà per conoscenza e per esperienza il fotografo fa esattamente le stesse cose il concetto di previsualizzazione io vorrei spiegartelo se mi fai vedere quella fotografia di un monaco in una processione esatto quello che volevo se riusciamo anche contestualizzarlo anche così rispondendo anche a qualche domanda che ci che ci hanno posto gli amici a casa se facciamo anche una piccola introduzione dicendo dove è stata scattata mi chiedono allora io ho un mio una mia metodologia per fotografare quando io vado in un qualsiasi posto vicino o lontano la prima cosa che faccio è un sopralluogo senza le macchine fotografiche cioè io non devo essere condizionato dal bisogno o dalla voglia di scattare una fotografia devo sapere dove sono cosa succede e quali sono i punti topici in cui io potrò raccogliere delle belle ok per cui faccio questo luogo senza le macchine fotografiche in questo caso sono a mandale a mandale succede una cosa particolare tutte le mattine tutti i monaci di tutti i monasteri intorno alla città si riuniscono fanno un'unica grande processione e corrono scusami camminano verso il monastero principale perché nel monastero principale viene distribuito l'unico pranzo della giornata siccome io voglio fotografare questo evento vado a fare il sopralluogo cerco di capire il luogo il posto eccetera a un certo punto identifico un punto sulla strada dove un raggio un raggio di luce largo circa 30 cm attraversa di netto la strada e io decido che quello è il punto che a me piace per fare la fotografia che io vorrò fare questo succede alle 11 di mattina per cui io il giorno dopo alle 7 ho sempre un gessetto di solito ognuno ha le sue fisime io ho il mio gessetto e ovviamente se sono le 11 di mattina segno esattamente sul marciapiede il punto che a me piace per per riuscire a idealmente a prendere questa inquadratura la mattina dopo non vado alle 11 vado alle 7 piazzo il cavalletto metto il cavalletto sul punto che io ho selezionato metto la macchina sul cavalletto e ho un telecomando in mano perché perché spesso io fotografo dal cavalletto perché la mia visione oculare del mondo ok dentro l'obiettivo della macchina fotografia è condizionato a sguardo libero mi consente di capire che cosa io voglio fotografare perché tanto il mio scenario il mio palcoscenico l'ho già inquadrato d'accordo benissimo cominciano ad arrivare i monaci e io potendo lavorare a mente libera guardo quale potrebbe essere il mio successo nel mio soggetto ne passano decine 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 a un certo punto a 50 60 metri vedo questo bambino di cui mi colpiscono gli artigli io alzerei la fotografia perché di questa fotografia a me hanno colpito le ma le mani di questo bambino che ha questi questi piccoli artigli magri agganciati a quello che è il suo unico tesoro il suo patrimonio cioè la ciotola dove gli viene messo il riso ok io non faccio il mio raggio di luce è di 30 centimetri io posso solo che decidere che quello è il mio soggetto aspettare che sia esattamente nel punto esatto nel momento esatto e senza distogliere lo sguardo dalla visuale schiaccio il mio pulsante e il mio pensiero la mia idea la mia inquadratura finisce dentro nella macchina fotografica quella la macchina fotografica è il magazzino della mia idea non un qualcosa che fa le fotografie questa si chiama pre visualizzazione ok michele fermo lì lo so che ne hai anche altri due però il tempo e ti vanno è uno a testa amanda qual è una una tua regola una tua base della fotografia ma io chiamo molto la fotografia di paesaggio in realtà cerco di veramente di lasciarmi portare dal paesaggio nel paesaggio nel senso che purtroppo la fotografia di paesaggio penso che sia una delle più bistrattate perché appunto si è anche sottovalutate perché non c'è la componente umana con cui in qualche modo si può dialogare non c'è diciamo la componente dell'animale che è sempre interessante quindi appunto ti puoi appostare cercare di fotografarlo in un modo particolare eccetera il paesaggio soprattutto quando è molto vasto rischia sempre di essere un di fare un po l'effetto cartolina una cosa che ti lascia lì e dice a bello bel posto no ma non non dice non dice niente né di te né del posto stesso quindi secondo me la cosa in veramente importante è riuscire a entrare in armonia con quello che stai vedendo cercando di farti portare dentro e di creare un frame una come diceva anche come diceva anche michele di creare una situazione di scegliere un'inquadratura che a sua volta ti riesca a far portare dentro poi chi vedrà la tua immagine cercando anche di fornire delle suggestioni in questo caso siamo in bolivia per esempio prima eravamo in islanda nei fiori occidentali con una situazione di inverno qua siamo in bolivia invece sul sul lago sul lago salato in un periodo in cui ci sono le piogge e quindi il lago è completamente bagnato c'è questo effetto specchio che crea un'atmosfera che definire onirica e a dir poco eppure questo è uno scatto le cose stavano esattamente così come 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 le vedete però ecco sono io che guardo loro loro che qua che si guardano nell'immagine riflessa si creano veramente dei rimandi e dei richiami e secondo me questo è un modo fondamentale per approcciarsi al paesaggio per raccontare qualcosa di quel luogo che ti aiuta poi a generare un racconto no perché poi noi adesso stiamo parlando di fotografie in generale ma come vedrete poi continueremo parlando di racconto fotografico no e quindi a me non piace che il paesaggio rimanga solo una cartolina solo una cornice in realtà il paesaggio è il mondo in cui noi siamo quindi è tutto per noi no è il punto d'arrivo il punto di ritorno come diceva anche giri se non sbaglio che tra l'altro punto un grande paesaggista ed era uno che amava molto le soglie le cornici mi piacerebbe davanti a questa immagine a me veniva voglia di andare nel fiordo dopo ancora no cioè di andare ancora più in là e probabilmente l'ha ritrovato qualcosa per andare ancora oltre poi finisce tutto e c'è solamente il mare e la groenlandia dall'altra parte per qua siamo sui fiori occidentali in islanda però la mia idea è che piaccia mettere una mano sul cancello aprirlo andare oltre ecco prima di passare eduardo con sempre la stessa domanda mi ricollego al discorso che faceva amanda perché c'è una domanda di nome mi dà marco però si firma maria penso quindi che siano in due a controllare a guardare la live e si dice proprio legato questo discorso del paesaggio come vi sentite sapendo che la vostra fotografia possa essere usata come sfondo di un computer o possa essere in qualche modo banalizzata qua è un bel discorso però secondo me anche c'entra molto la distribuzione però comunque se vi collega un po tutto questo discorso stavamo facendo posso posso fare siccome sapete che io sono un po talebano allora la fotografia è qualcosa di fisico è un foglio di neanche un millimetro che appeso a un muro o su una rivista o su un libro riesce a farti entrare dentro in un mondo cioè è un foglio ma riesce la fotografia se è una fotografia ti dà una tridimensionalità di spazio e di mondo che ti permette di entrare dentro in un mondo cosa che nessun monitor nessuno schermo di telefono e nessun tablet potrà mai darti allora l'uso l'uso che si fa di un di un tablet o di uno è questo questa questa cosa qui guardo delle immagini ok ma guardo delle immagini di di edoardo mie o di amanda esattamente come guarderei dei quadri di caravaggio o di picasso viceversa se la fotografia è una cosa fisica io posso concentrare l'attenzione su su quell'immagine e un po alla volta ci entro dentro ci entro dentro cioè prima guardo il generale e poi se il fotografo è stato bravo ci sono tutta una serie di linee di fuga dello sguardo che mi portano a tutta una serie di dettagli in questo caso è quasi clamoroso nel senso che che il attenzione cosa succede qui no torna indietro su questa fotografia di edoardo non possiamo tornare indietro ecco su questa fotografia di edoardo ok la prima cosa fa lo sguardo segue le linee arriva al centro della fotografia ma quando arriva al centro della fotografia non può più andare da nessuna parte c'è c'è un muro c'è una barriera rito lo sguardo rimbalza ritorna indietro e va e va a studiare un dettaglio per dettaglio quello che questa immagine racconta cioè e la bravura del fotografo è quello di condizionare le traiettorie dello sguardo di chi osserva quell'immagine ma portate pazienza sarò anche un dinosauro ma le fotografie mi piacciono stampate su qualcosa nello stesso modo in cui mi piace leggere un libro sfogliarne le pagine annusare l'odore del libro piuttosto che leggermelo su un tablet facciamo sì ci chiamiamo dinosauri edoardo 12 parole sulla foto lì di prima quella lì che è bellissima davvero dove sarà scattata così contributo questo poi passiamo all'italia rispondo a tutte le persone che ci scrivono adesso passiamo all'italia fateci finire questo discorso questo discorso voglio sapere che questi questi discorsi vengono ripresi sicuramente in tutti i workshop che facciamo quindi questo è proprio un discorso che potremmo andare avanti fino alle mezzanotte di questa sema purtroppo dobbiamo tagliare però i workshop si basano tanto su queste cose che stiamo dicendo adesso quindi quindi partecipate permettimi permettimi un inciso noi tutti tutti quanti noi perché mancano paolo petrignani natalino russo eccetera il nostro sforzo primario è quello di accompagnare i nostri amici che vengono con noi alla scoperta del mondo cioè cerchiamo di insegnarli a guardare il mondo lo scatto fotografico è l'ultimo segmento di un'operazione di conoscenza del mondo attraverso lo sguardo io ti insegno come guardare il mondo edoardo ti insegna come guardare il mondo amanda ti insegna come guardare il mondo se poi quello sguardo diventa una fotografia sarà una tua scelta parliamo anche di tecniche parliamo anche di di dettagli ma io ho un un mio bilanciamento abbastanza preciso la fotografia è 5 per cento di tecnologia 15 per cento di tecnica 80 per cento di creatività cioè la fotografia è infatti questo discorso che stiamo facendo che per alcuni potrebbe sembrare filosofia invece è la base di tutto e lo scattare fotografico e tornando tornando al miriallaccio uno al discorso che faceva michele sul sul fatto che ci sono molti che dicono che non si può parlare di fotografia addirittura se non è stampata quindi proprio la stampa diventa parte integrante del concetto di fotografia e in effetti la parte proprio tattile è importantissima e invece per quanto riguarda un po non so se la signora alla domanda di prima voleva parlare un po di stile o meno quello che a me piace molto è cercare la luce nell'ombra quindi in tutte le foto insomma avete visto comunque molte delle foto che avete visto c'è proprio questa ricerca all'interno di luoghi un po scuri un po un po cupi di trovare come in questo caso la luce quando quando viaggio quando vado in posti appunto per fotografare a me piace molto entrare anche nelle case ovviamente sempre con molta discrezione perché la parte etica che ha sottolineato michele molto e molto importante cioè poi prendere entrare senza chiedere un permesso senza chiedere un'autorizzazione a fotografare tutto però quando poi è starato anche questo rapporto importante con le persone vedi che entri in contatto con loro perché quando capiscono che le sta rispettando comunque non stai invadendo una loro privacy ma cerchi di entrare in contatto più stretto con loro ecco che io vado sempre a ricercare come nella foto precedente come in questa foto la luce nell'ombra ed è un po una caratteristica quindi quando vedi che so una capanna dove esce fuori del fumo beh allora molto probabilmente si vengono a creare delle situazioni interne di luce interessante in questo caso all'interno di una chiesa io avevo già preso un contatto con questo con questo prete ortodosso perché ero in in georgia lo scorso febbraio a fotografare un una una cerimonia molto molto interessante quindi l'avevo già conosciuto e per cui gli avevo chiesto il permesso se potevo stare di lato all'interno della chiesa a seguire tutta la celebrazione ovviamente avevo messo la macchina totalmente silenziosa per cui non si sentiva il clic della macchina fotografica perché scattavo semplicemente premendo il dito sullo schermo sul monito per cui non ha chiesto il permesso non disturbavo mero messo di lato e in questo caso come negli altri c'è questa ricerca della luce in un'atmosfera di ombra ed è un po una caratteristica edoardo ti riporto tantissimi complimenti che ci sono giunti proprio su queste foto che abbiamo visto anche quella dei due bambini prima che sono veramente bellissime e special modo uno di julia che ci dice che hai uno stile che li ricorda caravaggio quindi è veramente un bellissimo complimento e secondo me era importante ci tenevo a sottolinearlo giusto giusto un appunto dopo se no poi andiamo lunghi ma la differenza tra pittura e fotografia no c'è il cito soltanto una cosa cioè la fotografia crea cioè scusami la pittura crea la luce mentre la fotografia trova la luce e non per nulla appunto quando siamo in fotografia si dice dice guarda dice questa questa fotografia è caravaggesca oppure questa fotografia ci ricorda la luce della finestra di vermeer oppure guarda questo c'è proprio un sistema di illuminazione si chiama rembrandt proprio perché il pittore la creava quella luce lì mentre il fotografo la deve trovare questa non la può questa era un po' la differenza tra i due tra i due cose ecco anche qui siamo dentro appunto una capanna in uganda quindi in uganda io mi sono girato e ho visto questa persona al quale ho chiesto il permesso di fotografare ma questa persona ha continuato a guardare in terra come se non mi avesse visto e io ho scattato l'ho ringraziato e questo continuava a guardare in terra come se non l'avessi visto tra l'altro voi pensate che io uscivo dal sole quindi sono entrato dentro la capanna e non vedevo assolutamente niente quindi lui scuro in questa maniera non vedeva assolutamente niente a certo punto i miei occhi si sono adattati all'ambiente e ho visto questa scena cioè è stata veramente un impatto emotivo anche molto molto forte sempre seguendo il solito concetto muoversi nell'ombra alla ricerca della luce allora mi ricollego proprio queste foto perché sono le ultime ma bellissime anche tutte le altre che abbiamo visto sia di amanda che di michele per puntualizzare una una cosa è molto importante queste foto che vedete voi a casa sono bellissime e sono anche difficilissime da da fare cioè da realizzare a livello tecnico quindi quando partecipate ai vostri ai nostri workshop con con i nostri fotografi vi insegniamo come abbiamo fatto fino adesso facciamo tutto discorso sulla sul linguaggio fotografico che è un aspetto importantissimo è la base ma poi anche piccoli segreti piccoli trucchi tecnici per poterle realizzare perché quelle foto che avete visto fino adesso di eduardo ma ripeto anche tutte le altre non sono per nulla facili da realizzare anzi sono veramente di una difficoltà tecnica incredibile quindi questa cosa ci tenevo però io adesso veramente chiuderei qua questo discorso e invito a tutti a chi perché le domande io non ho mai visto probabilmente un webinar in cui hanno scritto così tante persone sappiate questi discorsi qua li possiamo fare tranquillamente però le vi rimando o è workshop oppure potete contattare direttamente i nostri fotografi che sono sicuramente ben vogliosi e ben disposti a parlare con voi di tutto questo di tutto questo discorso però è importantissimo adesso presentare workshop perché comunque tutti voi anche chi ci ha scritto se che è troppo troppo anziano per fotografare c'è scritto che che tipo di attrezzatura ha bisogno c'è bisogno un'attrezzatura evoluta quindi anche voi che siete alle prime armi potete partecipare a questi workshop e sono indicati anche per voi sono workshop fatti in italia di alcuni giorni che adesso amanda vi vi presenta bene nel dettaglio esatto esatto amanda scusami solo un attimo faccio solo un incastro che adesso qualche purista gli vengono i capelli dritti ok la differenza che sono già troppe domande michele mi raccomando fra un telefono di ultima generazione dove io posso gestire diaframmi tempi addirittura teleobiettivi eccetera è una macchina professionale da 5 mila euro sta nella qualità finale del file cosa vuol dire che se io devo fare un poster di tre metri per sei per per una qualche non posso farla con un telefono perché perché non ho la qualità fisica per per farlo ma ma dal punto di vista concettuale cioè siccome abbiamo detto la macchina fotografica è solo il magazzino dove io metto le mie idee tanto è una 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 reflex con un obiettivo da 5 mila euro tanto è dal punto di vista concettuale il il mio cellulare io non mi vergogno di dire che qualche volta faccio delle fotografie con il cellulare perché mi dà dei risultati ok non sono un purista che dico se non hai se non hai almeno tre reflex e 12 obiettivi non sei degno di fare ok la fotografia come diceva edoardo è un modo di essere non è avere delle attrezzature le attrezzature mi servono poi in base a cosa io devo fare è ovvio dei poster per armani a milano 18 per 6 non posso farle con un telefono ma la fotografia è un modo di essere non un attrezzatura non un per cui e tutti noi insegniamo a guardare per cui sia che sia un neofita sia che sia uno che pensa e magari lo è un esperto trovano nei nostri workshop lo spazio giusto per poter portare a casa un'esperienza per poter portare a casa qualcosa nel senso dire ho imparato a guardare le cose in modo diverso in modo approfondito ogni cosa che abbiamo detto questa sera nei nostri workshop viene approfondita perché abbiamo ovviamente più tempo e anche ad personam in modo abbastanza esaustivo io direi che il nostro obiettivo adesso che qualcuno inizia a fotografare in uno dei nostri workshop e poi nel suo proseguo da carriera arrivi a fare le foto per armani da stampare in centro milano quello è il nostro obiettivo dei nostri workshop adesso però iniziamo a presentare i workshop amanda quindi vediamo un po quali sono esattamente il team appunto national geographic photography expeditions è nato per presentare tutta una serie di viaggi e se guardate sul sito sia national geographic expeditions punto it che a 12.com trovate tutta una serie di indicazioni di viaggi che io michele edoardo gli altri ragazzi del gruppo che sono natalino edoardo miola e paolo petroni accompagniamo generalmente in giro per il mondo quello che è successo recentemente con questa pandemia ci ha portato per fortuna direi anche a considerare tutta una serie di itinerari in italia e in omaggio ai grandi alla grande tradizione culturale perché il nostro credo uno dei paesi se non il paese più bello del mondo l'abbiamo chiamato appunto viaggio in italia ognuno di noi fortunatamente ha una regione di riferimento abitiamo tutti in regioni diverse questo ci ha permesso come potete vedere di spalmare questa queste proposte per il momento ognuno nella propria regione quindi tra l'altro giochiamo in casa quindi siamo anche motivati da una vicinanza ai paesaggi e alle situazioni che andremo a vedere e questo sulla fotografia di paesaggio chiaramente apre tutta una serie di stimoli incredibili amanda scorso se ti interrompo soltanto però vorrei proprio ripeterli perché magari chi ha problemi a presentare anche a presentare il fotografo che che li accompagna allora intanto abbiamo le dolomiti dove abbiamo appunto michele che che è un uomo di montagna e credo che sarebbe la persona migliore per portarvi a scoprire le montagne più belle del mondo veramente le dolomiti sono sono state preda di fotografi di scalatori di ammiratori veramente da tutto il mondo e tra l'altro hanno delle situazioni di luce veramente molto particolari e michele ha messo in piedi veramente un programma anzi due molto interessanti che vi terranno in piedi dalla mattina fino alla sera tardi per vederle veramente sotto qualsiasi luce quindi è veramente una un'altra un'esperienza di contatto proprio di voglia di fare di fare di vivere la montagna e di fare fotografia di montagna sono le caratteristiche tra l'altro del territorio tutte le leggende legate alle montagne ai boschi è una tradizione straordinaria da scoprire dopo di che appunto io invece avrò il piacere di accompagnarvi sul lago di como che è stato già da tempo in inserito in uno dei più belli come uno dei più belli specchi d'acqua del mondo una delle meraviglie acquatiche del mondo da national geographic famoso sia dal punto di vista naturalistico ma anche per un'offerta culturale davvero importante e per aspetti anche rurali importanti c'è stato tutto il recupero dei dei muretti a secco ci sono delle vedute paesaggistiche incredibili ci sono delle ville che parlano di eleganza di lusso di cultura di arte di tradizione veramente veramente potremmo stare in giro settimane invece per motivi di tempo questi workshop durano due giorni due giorni e mezzo tre massimo proprio per darvi degli stimoli quello che dicevamo prima non c'è lo scopo è quello di andare a a vedere a scoprire come guardare le cose cioè non solo vedere ma guardare quindi entrare e cercare di raccontare raccontare con ognuno con delle sue caratteristiche con le sue caratteristiche proprie dopodiché invece sempre edoardo vi porta nelle cave di marmo in toscana qua abbiamo un'altra diciamo esperienza che è tipica proprio anche da national geographic se volete perché andiamo a scoprire un lavoro un lavoro che sta dietro la magia del marmo la pietra che diventa che diventa statua una pietra grezza che invece poi sbozzata trova una sensualità che ci lascia bocca aperta e che dietro al lavoro dei cavatori in un ambiente anche lì straordinario tutto fatto in sicurezza con con veramente tutta la filiera della lavorazione e tutto quello che ci sta dietro in un ambiente particolare che appunto è quello delle delle cave di carrara e dintorni non da ultimo andrete a assaggiare anche il lardo che comunque ha una sua attinenza al marmo e anche qua abbiamo un bellissimo incontro tra cultura in senso alto cultura in senso enogastronomico e che è una meraviglia anche quella del nostro territorio poi abbiamo invece natalino che è un napoletano doc che ha proposto questo itinerario napoli segreta e già la sua incipit nella presentazione è stato è un programma perché lui giustamente ha scritto vedi napoli e poi muori puntini puntini dalla voglia di fotografare e questo è già credo un attestato magnifico di quello che vi farà fare dalla mattina alla sera nel cuore di napoli che lui conosce benissimo una napoli segreta le luci le ombre la gente quindi anche qua c'è un aspetto anche molto se uno venisse da fuori direbbe etnico nel senso che appunto c'è un modo particolare è un mondo napoli no è veramente un'esperienza poter poter girare tra l'altro con una persona che conosce bene che quindi sa esattamente dove andare e cosa far vedere dopodiché abbiamo paolo invece che vi porterà nel parco nazionale del circeo anche qui ci sono delle suggestioni fortissime che partono dalla maga circe quindi cultura storia tradizioni c'è un aspetto naturalistico meraviglioso perché fa parte è un cosiddetto MAB quindi è una è una zona protetta dal punto di vista ambientale e naturalistico e anche qua intanto Paolo ha messo in piedi un programma molto dinamico con con biciclette camminate si vedrà veramente si avrà la possibilità di entrare nel parco e viverlo veramente attraverso anche le suggestioni appunto di tutti questi racconti della maga circe ci saranno degli scorci che che vi farà raccontare appunto sempre con la filosofia national geographic cercando di entrare come vi dicevo in risonanza con il paesaggio con le tradizioni con la cultura e quindi di raccontarlo non semplicemente per fotografie belle per immagini per cartoline ma strutturando strutturando un racconto e infine last but not least is fascino dei borghi liguri ci sarà edoardo miola anche qui la liguria paradossalmente viene sempre è il mare dei milanesi si dice no quindi siamo abituati all'idea della delle vacanze della gente in giro del turismo invece edoardo appunto va alla ricerca anche qui di borghi particolari del silenzio della fatica dei liguri che hanno costruito in zone veramente difficili questa questa terra stretta tal mare le montagne le tradizioni anche qui dei villaggi così dati villaggi delle streghe sempre quindi con un occhio particolare cioè vedrete che ogni proposta ha veramente degli stimoli che non sono semplicemente quelli di andare a vedere un posto perché è bello perché c'è qualcosa di particolare ma di viverlo ecco perché penso che è una cosa bella della fotografia veramente sia l'incontro quindi la possibilità di aspettare come diceva michele un animale al bordo ecco io non gli sparerei ma quindi non la metafora del cacciatore mi viene meno bene però io l'animale lo aspetterei per fotografarlo per per incontrarlo per per rimanere a bocca aperta ecco per farvi raccontare qualcosa di questo luogo per raccontarlo in un modo in un modo particolare e perché così magari oltre a essere oltre a essere io che facendo foto di un paesaggio lo rendo memorabile magari anche in qualche modo lascio traccia di me in questo paesaggio il paesaggio magari si si ricorderà di me in qualche modo e scusate non vorrei che per qualcuno pensasse sono un fautore della caccia proprio proprio la metafora qui adesso io penso che michele meglio di altro potrà presentare il suo particolare sulla sulla giusto veloci perché sono quasi le otto di sera e le persone che hanno fame giustamente voglio voglio dati importanti importantissimi allora per chi è interessato può scrivere direttamente a info che ho già che 12.com aveva messo in contatto con la persona con lo specialist di riferimento e quindi avrete tutte le informazioni disponibili e necessarie proprio per approfondire bene il workshop questi workshop michele di quanti giorni sono e di che periodo stiamo parlando allora i miei allora stiamo parlando di intanto stiamo parlando di che location io ho scelto due location che sembrano appartenere al regno della fantasia cioè una è esattamente sotto quel picco che vedete a becco d'aquila che si chiama cimon della pala il rifugio capanna cervino è esattamente sotto e da lì si possono vedere credo dei tramonti che che solo chi è stato lì può sapere cosa può essere un tramonto sulle dolomiti ed è un luogo straordinario sia per quando siamo quando sarà questo workshop allora ce ne sono tre in tre weekend il 19 20 giugno 19 20 luglio e più o meno la stessa periodo di settembre perché ho scelto queste date perché siamo in luna nera cioè siamo nel momento in cui nel cielo non c'è la luna e il fatto che non ci sia la luna ci consentirà di vedere delle situazioni anche di stelle e di via lattea che sono che sono da togliere il fiato l'altro punto di eccellenza da dove noi riusciremo a vedere questi mondi è il rifugio scoiattoli si trova sopra le cinque torri non sotto ma in questo caso sopra cioè hai una panoramica dall'alto verso il basso se vediamo forse l'immagine dopo credo credo che che sia quella giusta no quella dopo ecco questo è da rifugio questo queste sono le dolomiti d'ampezzo dal rifugio dal rifugio scoiattoli e sono due location straordinarie da dove veramente si può vedere il il tutto il mondo dolomitico nel nel tragitto noi andremo anche a vedere altre situazioni questa invece è l'altro workshop ne faremo solo due uno a metà luglio e uno a metà settembre che si tratta della zona orientale delle dolomiti dolomiti d'ampezzo e tre cime di lavaredo e dove faremo base al rifugio auronzo e anche questo è un ci permette di entrare dentro nelle montagne delle leggende ci sono sempre delle piccole escursioni di 20 minuti mezz'ora tre quarti d'ora che inframezzano diciamo le sessioni fotografiche ed è un'esperienza una full immersion nelle montagne più belle del mondo che credo non abbiano uguali io ne ho viste tante di montagne nel mondo e le dolomiti oggettivamente anche non da partigiano sono veramente gli skyline più belli del mondo io mi chiede direi anche una cosa molto importante che forse forse un po sfuggita tu vivi in montagna vivi in quei luoghi lì quindi ovviamente probabilmente non c'è persona più adatta di te in questo caso per presentare questi questi due tinerari arodolo mitico e come tale sono tagliato con la scura per cui i miei i miei giudizi spesso sono abbastanza taglienti però sopportatemi così assolutamente sì edoardo il tuo workshop invece è una tutti sono bellissimi ma la tua è proprio una chicca probabilmente ci vuoi presentare così velocemente anche te ricordando quanti giorni è e soprattutto in che periodo allora dunque il mio workshop è ancora dobbiamo stabilire le date precise però partiremo da dai primi di luglio e sarà un weekend allungato quindi dal venerdì alla domenica verrà fatto con si ne verranno fatti due faremo questo sui butteri in maremma e quindi andremo a seguire tutto il lavoro dei butteri all'interno del questo agriturismo e loro praticamente vivono come come vivevano i butteri cento anni fa cioè nel senso salsano la mattina presto sella noi cavalli vanno a dare da mangiare al bestiame vanno a rifare a riparare gli staccione le staccionate portano i bestiame all'acqua c'è anche tutto un periodo in cui fanno la marchiatura dei vitelli insomma fanno l'attività del cowboy italiano pratica il cowboy americano che si trasforma nel buttero è che il cowboy in qualche modo italiano e sono proprio dei butteri che lo fanno di lavoro questo in questo discorso quindi noi ci immergeremo all'interno della maremma toscana per raccontare questa micro storia sul lavoro dei butteri l'altro invece workshop verrà fatto appunto con sede logistica a villa bianca che al lito di camaiore che è appunto una villa dove dove alloggeranno le persone che poi parteciperanno al workshop e da lì poi ci sposteremo per andare proprio a documentare le tutte le fasi della lavorazione del marmo andremo proprio su queste cave il paesino che vedete ai piedi di queste due cave è colonnata che è famosa appunto per il lardo di colonnata e tra l'altro anche la oltre a seguire appunto tutta la lavorazione del marmo quindi entreremo proprio dentro una cava ovviamente tutto in estrema sicurezza e seguiremo proprio il taglio del marmo la lavorazione del marmo come queste persone passano una giornata all'interno della di una cava di marmo e anche lo stesso lardo che è appunto un mangiare semplice e umile deve la sua particolarità proprio al marmo nel senso che il lardo viene fatto viene lavorato all'interno di un marmo particolare di Carrara ed è l'unico marmo che non assorbe il sale quindi è per questo che si può mettere il lardo all'interno di questo di questi contenitori fatti totalmente in marmo ricoprirlo di sale e lasciarlo appunto lavorare perché appunto uno particolare marmo di Carrara l'unico marmo al mondo che non assorbe il sale e quindi permette di lavorarlo per cui seguiremo questi due aspetti proprio tutto quello che ruota intorno al marmo a Carrara fino ad andare anche in centro a Carrara dove c'è una strada dove praticamente in passato ora ci passano i camion ma in passato ci passavano i cavatori che portavano i pezzi di marmo facendoli rotolare su dei su dei pezzi di legno un po come avevano costruito le vecchie le vecchie piramidi e tra l'altro con le piramidi cioè con l'Egitto c'è anche una storia abbastanza particolare perché se vi ricordate che fa l'Egitto in che il 12 magari lo sa di sicuro praticamente il tempio di Abu Simbel dopo la costruzione della diga di Aswan è stato spostato di 300 metri rispetto a dove era ubicato inizialmente ecco coloro che hanno fatto i tagli dei pezzi del tempio di Abu Simbel per spostarlo erano tutti i cavatori di massa dei cavatori di Carrara che li avevano chiamati per portarli giù in Egitto a fare questa operazione di taglio per ricostruirlo poi 300 metri più in là quindi c'è proprio Carrara e il mondo del marmo è proprio qualcosa di particolare e noi documenteremo un po tutto questo la signora Bruna che prepara il largo di colonnata in maniera divina tra l'altro. Ci chiedono se le date non sono ancora precise comunque possiamo ricordare il periodo? Da luglio praticamente a ottobre ma nei prossimi giorni date tempo una settimana magari comunque scrivete se siete interessati così poi vedrete ricontattati quando ci saranno appunto le date precise ma nell'arco di una settimana ci saranno un po' tutte tutte online esatto ricordo davvero questo discorso appunto del covid fondamentalmente per cui sapere esattamente quali sono le eh eh disposizioni e i protocolli che devono essere seguiti per cui quando avrete una chiarezza ai primi di giugno su quando sarà tutto eh allora possiamo tranquillamente fornire. La cosa importante da dire è che comunque è per l'estate 2020 quindi questa qua. Per l'estate 2020 assolutamente. Estate autunno. Esatto. Poi continueremo. Adesso abbiamo anche non li abbiamo anticipati tutti perché ci sarà anche eh un tour dei vulcani ci sarà ci sarà Matera con le gravine di Puglia ci sarà ci saranno i vigneti. Non spolevare troppo Michele non spolevare troppo. Già questi qua secondo me hanno già fatto venire l'acquolina in bocca a tante persone quindi. Quello che volevo dire seguite il sito perché il sito verrà aggiornato sistematicamente e continuamente con tutte le nuove proposte. Noi andremo fino alla fine dell'autunno con queste proposte. Soprattutto non 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 vi fate spaventare cioè nel senso eh sentivo prima Filippo che diceva ma che macchine deve avere oppure devo essere già un fotografo. No. Cioè nel senso è aperto veramente a tutti. Se sei un fotografo apprenderai da fotografo. Se sei un principiante apprenderai da principiante ma non c'è un un esame da missione assolutamente. Sono veramente eh aperti a tutti. Esatto ehm questi questi workshop abbiamo deciso di chiamarli Viaggio in Italia proprio perché vanno a come detto Michele ehmanda prima vanno a proprio a a toccare diverse zone dell'Italia e a volte soprattutto abbiamo visto le foto quelle dei butteri cioè magari sfugge eh eh la nostra comprensione che una foto così potrebbe potrebbe benissimo essere stata scattata pensiamo magari in zone super esotiche invece siamo proprio qua nel nostro bel paese quindi eh adesso non voglio fare un po' di retorica però davvero abbiamo delle piccole gemme che è giusto valorizzare e scoprire attraverso il la fotografia. Esatto. Amanda eh quindi abbiamo parlato di Dolomiti, abbiamo parlato di di Toscana e poi arriviamo nel nostro amato Faccio una piccola ammenda. Esatto. Faccio una piccola ammenda perché prima ho clamorosamente presentato Paolo Petroni che non esiste nel nostro team è Paolo Petrignani quindi Paolo perdonami ho sbagliato mi sono accorta dopo ma dopo un po' la lingua mi fa beh ci lecca. Niente allora vi io vi porterò come vi dicevo sul lago di Como eh il lago di Como eh che eh a me ha sempre ricordato soprattutto in certe ore della della mattina molto presto della sera tardi un fiordo ho avuto casa lì per ventisei anni quindi lo conosco veramente eh veramente bene eh quindi spero di potervi far scoprire degli angoli anche sconosciuti eh ci concentreremo nella zona della eh sempre in due giorni e mezzo nella zona della Tremezzina perché è quella sicuramente eh più famosa ma anche che offre più più possibilità dalla passeggiata nei boschi a appunto agli spunti quindi naturali a quelli culturali le chiese romaniche le grandi ville piene di cultura che sono Villa Carlotta Villa Balbianello ci abbiamo Bellagio che è la punta centrale con una la punta spartimento con con un panorama incredibile questa è Villa Carlotta che vedete nella eh eh nella nell'immagine eh c'è un patrimonio veramente sia naturale che culturale che ha tratto da da secoli da gente da tutto il mondo è stata cantata da poeti da il primo eh era eh è stato Lucrezio che appunto la nominava come una delle meraviglie eh marine eh marine scusate sempre acquatiche in eh eh nel sudere rum natura eh c'è tutto l'aspetto legato appunto al patrimonio invece artistico queste sono tutte opere eh questa è un canova eh sono opere eh patrimonio eh nazionale quindi sottoposte bene eh alla tutela le visiteremo in tutta sicurezza anche per quanto riguarda questo tour al momento non abbiamo ancora le date sicure perché stiamo cercando di capire quali saranno le aperture delle varie ville delle varie dei vari siti eh in modo da poter andare mirati eh però troverete come dicevano anche loro anche Michele Edoardo e Filippo prima troverete tutto sul calendario eh nelle prossime settimane eh sul nostro sito e poi vabbè sono a disposizione per domande se poi uno vuole approfondire per sapere meglio dove si va cosa si fa avremo la possibilità di fotografare negli interni con il cavalletto quindi insomma eh questo questa che vedete è la stato di Marte e di Venere e il fregio che corre eh sulla parete invece è il famoso fregio di Dittor Walsem dedicato ad Alessandro Magno che è quel personaggio che vedete sul sul carro eh dietro Venere eh sono veramente eh dei richiami incredibili tra il paesaggio la bellezza del paesaggio e le bellezze diciamo artistiche eh se ne possono raccontare di storie intorno a a queste cose e uno degli scopi principali di questi workshop è insegnare a raccontare per immagini quindi non realizzare la singola immagine bella ma riuscire a inanellare una storia che è un po' la caratteristica poi di National Geographic no ad eh a parte l'immagine wow che uno rimane lì però ecco dietro c'è una storia ci sarà la storia dei cavatori ci sono le tradizioni legate alle leggende delle delle fate eh in in Dolomiti eh ci sono le streghe del della Liguria c'è l'altra strega o maga del Circeo eh c'è Napoli con tutta la sua infinita e meravigliosa eh varietà eh tra sacro e profano tra il giorno e la notte quindi eh veramente abbiamo la possibilità di riscoprire un po' il nostro paese tanto bistrattato ma che forse grazie a questo eh a questo stop forzato avremo la possibilità di ehm di ritrovarci di nuovo vicini e come diceva anche Luigi Ghirri forse avremo la possibilità di riavvicinarci anche alla fotografia di paesaggio e di recuperare quello che la fotografia di paesaggio ci può insegnare cioè l'amore per l'ambiente che ci circonda e che si carica quindi anche di 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 responsabilità di 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 sostenibilità eh amare in fondo una cosa vuol dire anche rispettarla e e riuscire a fare qualcosa di buono per lei quindi eh speriamo anche che sia un'occasione per fare questo esatto ecco il sicuramente sì io lo faccio scusami solo mi incastro un attimo sulla cioè il racconto fotografico necessita di una grammatica e di una sintassi cioè non è una cosa che si improvvisa ha ha delle ha delle sequenze delle regole dei 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 meccanismi per portare il lettore ipotetico dal punto a al punto b al punto z e eh bisogna impararlo eh noi eh per per esperienza perché se ci mettiamo tutti insieme eh con con gli articoli che abbiamo pubblicato facciamo un'intera enciclopedia eh siamo in grado e soprattutto abbiamo questa eh questa questa affinità con il racconto fotografico che che chi si improvvisa fotografo per evidenti motivi non può avere per cui eh noi proponiamo di essere degli accompagnatori attraverso la narrazione fotografica insegniamo come si fa poi uno la adatta al suo stile al suo modo di vivere al suo modo di pensare esatto quindi secondo me tutto l'argomento che abbiamo parlato qua l'avete siete stati collegati fino adesso quindi sicuramente avete captato tante belle informazioni quindi tutto questo argomento verrà trattato nel workshop dal punto di vista tecnico viene anche quello trattato nel workshop e quindi non abbiate paura se siete carenti dal punto di vista tecnico è adatto a tutti ma il vero valore di questi workshop secondo me è che sono organizzati con la filosofia di KEL12 National Geographic Expedition quindi non è un eh andiamo lì mettiamo il cavalletto ma è proprio un'immersione a 360 gradi in luoghi che a volte abbiamo solo fuori da fuori di casa quasi perché il lago di Como Como Milano un'ora di macchina un'ora e mezza ci si arriva ma io sono convinto che eh tanti non lo conoscono oppure se lo conoscono eh questa occasione è proprio ideale per conoscere una una faccia del lago diversa lago di Como così come le Dolomiti così come la Toscana e la Campania eh quindi mi raccomando partecipate scrivete a info-KEL12 così avete tutte le le informazioni necessarie possibili siamo andati lunghissimi su quello non avevamo dubbi eh ci chiedo come sono esatto rimandiamo sempre a quindi agli nostri specialist che vi danno tutte le informazioni ideali però sappiate che sono organizzate sempre da KEL12 quindi con tutta la struttura eh e anche la filosofia di viaggio degli itinerari KEL12 quindi assolutamente primo a posto la qualità delle nostre offerte su quello non si transige così come non si transige sulla sicurezza quindi se viaggiate con noi andate davvero eh sicuri al cento per cento ed è per questo che alcune date non sono ancora precise proprio perché dobbiamo ancora ehm capire come muoverci io chiedo a tutti voi così con una battuta conclusiva su perché eh fare un workshop con KEL12 e poi se volete potete lasciare anche i vostri contatti così visto che ce ne sono tantissimi che ci hanno scritto si possono mettere in contatto direttamente con voi e magari approfondire lì questi argomenti inizierei con Amanda come sempre concedetemi l'ultimo atto di cavalleria grazie allora eh appunto io vi invito perché anche chi potesse anche chi dovesse conoscere già le location che andremo a visitare è sempre una buona idea per tornare anzi in fotografia tornare fa sempre bene intanto perché eh è proprio conoscendo un posto conoscendo una situazione conoscendo il proprio soggetto che gli si rende maggior giustizia quindi comunque che sia persone che non hanno mai visto le Dolomiti o persone che le abbiano già viste se ci andranno con Michele sicuramente riusciranno a fare qualcosa di più e di inaspettato che che magari andando semplicemente a farsi un giro e basta con un'altra persona perché comunque lui è veramente the man per andare in questa location così come Edoardo secondo me per le foto che avete visto è la persona migliore con cui andare per poter veramente avvicinarsi a questa scrittura di luce o scrittura con la luce come più vi piace allora diamo parola a The Man che dici? The Man con la M maiuscola M come montagne vi confesso una cosa non c'è giorno che le mie montagne che vedo purtroppo da molto più di mezzo secolo non siano in grado di stupirmi a volte io questa cosa qui non l'ho mai vista eppure ce l'ho ce l'ho davanti al naso eh riescono a stupirmi tutti i giorni per cui penso che riusciranno a stupire anche chi le vede o chi le ha già viste ma che non sa interpretarne i momenti perché come 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 tutte le cose bisogna essere nel momento giusto nel posto giusto quindi anche The Man si commuove possiamo dirlo davanti alla maestrosità delle dolomiti The Man si commuove esatto quindi Edoardo l'ultima due battute guarda proprio ultime battute beh io cercherò di portare delle persone fuori dal concetto della fotografia del turista ma cercherò veramente di far capire che con la fotografia si può veramente raccontare qualcosa uscendo fuori dallo scatto cartolina cercherò veramente di come dire di costruire proprio un micro progetto per raccontare qualcosa nel mio caso le cave di marmo e tutta l'attività che ruota intorno nel caso di amanda il lago di como e tutto quello che ruota intorno nel caso di michele le dolomite altro napoli e il circeo i borghi liguri cioè ecco come raccontare qualcosa uscendo fuori praticamente dalla foto stereotipata della cartolina che si bella esteticamente ma poi dopo lascia lascia niente alla fine esatto bene bene quindi mi raccomando per tutte le informazioni scrivete ancora info.kel12.com e vi rispondiamo nel modo più esauriente possibile l'ultimissimo cosa che dico chiedo di mettere in sovrappressione la relativa slide perché è molto importante perché i prossimi appuntamenti parliamo del nostro bel paese quindi iniziamo venerdì questo 29 maggio alle 18.30 su instagram quindi seguitici assolutamente dovrete seguirci e se possibile attivare anche le notifiche che è il 12 turo per reto parliamo di italia e di quello che andiamo a fare quest'estate nel nostro paese quindi siete in tanti che ce l'avete scritto siete in tanti che ci chiedete venerdì vi svegliamo tutto quello che abbiamo in servo e Filippo scusa e mercoledì 3 giugno come oggi aperitivo sempre approfondimento su tutto quello che è l'Italia da parte mia è tutto saluto a tutti voi lascio la parola al Michele mi sentirei di dire di chi è interessato ogni 10-15 giorni va a vedersi il sito perché sul sito continueremo ad implementare programmi, proposte, cose dell'ultimo momento eccetera per cui l'unica cosa intelligente da fare è per chi è interessato ogni settimana 10 giorni andare a guardarsi i programmi sul sito esatto, il sito e poi seguire il social network che è la zona più facile magari dove possiamo comunicare in modo proprio diretto con i nostri amici a casa io ho finito davvero Amanda grazie, grazie a tutti per la pazienza se vogliono contattarci anche lì chiedete informazioni tramite info at kel12.com e poi vi metteranno in contatto con noi è la cosa più semplice che non lasciare magari adesso l'indirizzo volante esatto, se sono domande che possono rispondere ai nostri specialist ci pensano loro se invece ci sono delle domande agli approfondimenti ti rimanda alla persona indicata assolutamente, siamo una grande famiglia quindi cerchiamo sempre di coinvolgere tutte le persone ognuno con le sue particolarità grazie a tutti, buona semata, scusate il supravitardo ma ci saremo è rimasto, grazie tanto da parlare esatto, e quindi direi buona cena a tutti grazie, grazie a tutti ciao, buona semata, grazie ciao grazie grazie a tutti